Dal primo dicembre del 2013, quando sette operai cinesi morirono intrappolati nella fabbrica in fiamma in cui lavoravano nella zona del macrolotto a Prato, qualcosa è cambiato. Le istituzioni hanno infatti messo insieme le forze per aumentare i controlli nelle aziende cinesi tra Firenze, Empoli, Pistoia e Prato. Negli ultimi tre mesi, da settembre a novembre, sono state monitorate 859 aziende. 93 sono risultate del tutto inesistenti, mentre 447, cioè una su due, si sono dimostrate non in regola tanto da meritarsi un'informativa di reato per la presenza di dormitori abusivi, bombole di gas non in sicurezza, impianti elettrici non a norma. 62 di queste imprese sono state poi chiuse dall'autorità giudiziaria. L'obiettivo finale è anche quello di portare progressivamente alla luce questo distretto produttivo delle confezioni perché dia davvero nella legalità un contributo alla ricchezza e al benessere di Prato e della Toscana. Anche perché imprese perfettamente in regola ci sono 242 su tutte quelle analizzate, cioè il 25%, un segnale incoraggiante soprattutto in prospettiva futura visto che 170 imprenditori hanno già cominciato percorsi di immersione. Abbiamo coinvolto in questo ragionamento i sindacati, le associazioni di categoria, gli ordini professionali che si sono resi disponibili per far sì che invece chi vuole stare dentro le regole venga sostenuto e invece chi vuole agire al buio, chi non vuole rispettare le nostre regole venga sanzionato e colpito duramente. I controlli verranno ora estesi alle altre 7200 imprese cinesi già censite. Una protesta in piena regola in occasione di un convegno organizzato questa mattina da Anci Toscana sul tema della città metropolitana. Agli studenti del polo universitario scientifico di Sesto Fiorentino la vicina pista parallela che dovrebbe nascere a Peritola nei prossimi anni proprio non va giù, tanto che stamani hanno esposto striscioni e intonato cori contro la nuova infrastruttura il cui masterplan è già stato presentato da ADF. L'occasione per iniziare la protesta è stato il discorso di Dario Nardella. In quel momento infatti un gruppo di studenti dei collettivi di sinistra hanno srotolato striscioni con la scritta Addio Polo, benvenuto aeroporto e un altro con lo slogan No inceneritore, no aeroporto. Quindi poco più tardi hanno piazzato da fuori un altorparlante su una delle finestre dell'aula, diffondendo all'interno il rumore di aereo in partenza per simulare quale potrebbe essere la situazione con l'ampliamento dello scalo fiorentino. Secondo gli studenti infatti la nuova pista sarebbe incompatibile col polo universitario perché arriverebbe a soli 200 metri di distanza rendendone impossibile ogni ipotesi di sviluppo ed hanno pertanto richiesto un ripensamento dell'opera. Nardella, dalla sua, ha confermato che l'ampliamento di Peretola si farà, ma si è dimostrato anche disponibile al confronto sul tema, annunciando che ci sono inoltre progetti che potrebbero essere attuati grazie ai fondi dello sblocca Italia. Nel dettaglio Nardella ha spiegato che tra gli obiettivi a breve termine ci sono l'allungamento della linea 2 della tramvia fino al polo scientifico e oltre, ovvero fino a Campi Bisenzio, e una nuova pista ciclabile per arrivare proprio alla struttura universitaria. Attendono il rinnovo del contratto nazionale da sei anni e anche l'ultimo incontro lo scorso 17 novembre si è chiuso con un nulla di fatto. Per questo i lavoratori di scuola e pubblico impiego della Cisla hanno proclamato una giornata di sciopero nazionale con presidi e manifestazioni in tutte le province toscane. A Firenze un centinaio di persone si sono radunate davanti alla prefettura con un messaggio chiaro da mandare al governo. Per dire basta un atteggiamento del governo che continua con sufficienza a negare un diritto fondamentale ma soprattutto rifiuta un confronto serio su una riforma vera della pubblica amministrazione. All'interno della categoria un focus particolare lo merita la situazione della scuola dove alla mancanza del rinnovo contrattuale si somma la gestione delle varie riforme che si sono succedute negli anni senza che denunciano i lavoratori. I vecchi problemi venissero meno. Il nostro contratto anche nella parte normativa resta invariato. Noi ci troviamo a dover assumere i diritti e i doveri di un contratto vecchio in una scuola che è cambiata ed è nuova, fra virgolette nuova naturalmente. La speranza adesso è che dopo la sentenza della Corte europea che ha condannato l'Italia ad assumere gli insegnanti precari almeno quella annosa questione possa trovare risposte certe in tempi rapidi. Gli annunci che ha fatto Renzi sono in questa direzione. Il fatto di poter assumere tutto il personale e stabilizzarlo soprattutto quelli che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. E domani sempre la CISL celebrerà alla stazione Leopolda di Firenze la prima delle tre manifestazioni nazionali per il lavoro e per il sociale. Grazie. 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 Grazie.